Elena, intanto dove ti trovi? Vedo dei militari nel frattempo. No, in realtà Tiziana non possiamo tirare sulla telecamera perché ci stanno facendo un controllo qui lungo la striscia. Allora, lascia stare, ci chiedi tu la linea quando vuoi. Però non possiamo tirarla su. Ci chiedi tu la linea quando sei nelle condizioni, ok? Bene, perché poi la guerra è questo. Elena, in questo momento, lo dico intanto che sto vedendo ancora delle immagini, Elena in questo momento si trova a sud, fino a ieri era nel nord di Israele al confine con Libano, adesso è tornata verso sud ed è vicinissima alla striscia di Gaza. Questi controlli sono evidentemente dell'esercito israeliano, c'è la difficoltà a riprendere, questo è comprensibile, giusto, generale, che chiedano magari di non riprendere. Adesso c'è il controllo in atto, appena Elena si libera, immaginiamo che non ci sarà nessun problema, ci richiederà la linea. Però, dicevo prima, generale, Elena proprio ieri ha parlato col portavoce dell'esercito israeliano. Le faccio sentire l'intervista e la commentiamo insieme, perché anche secondo me quell'intervista è molto interessante. Vediamo. Poi non so se è la stessa, secondo me la nostra è meglio, però. Vediamo.